ben ritornati ben ritrovati e buongiorno a tutti buon martedì siamo all'antivigilia del ritorno al campionato nonostante tutte le cose che abbiamo letto che abbiamo sentito tutti i problemi tutto quanto pare che si giocherà e noi affronteremo alle 18 e 30 di giovedì la roma la roma è una partita molto importante naturalmente la prima legione di ritorno questo campionato asincrono che comincieremo a sperimentare proprio da giovedì e io credo che in questi giorni dove si è parlato molto di mercato dove si è parlato molto dei giocatori che non ci sono come ad esempio quelli che potrebbero arrivare appunto dal mercato di riparazione oppure i nostri ragazzi che sono andati a giocare la coppa d'africa secondo me varrebbe la pena parlare di quelli che ci sono quindi spendere un po più di tempo per analizzare la partita di giovedì e per analizzare soprattutto i nostri avversari perché la roma è una squadra particolare e non sapere chi andremo ad affrontare potrebbe essere un problema per noi perché dico questo perché nell'ultimo mese mese e mezzo murigno ha sperimentato molto tra poco vi faccio vedere anche così alcuni spunti in grafica per capire meglio come la roma sta cercando di adattarsi alla sua stagione non solo all'avversario non solo al campionato ma anche proprio in generale alla sua stagione allora direi che la cosa migliore da fare è concentrarsi come dicevo su quelli che ci sono questa è la formazione di sky che vedete qui in grafica una formazione che secondo me è fatta per dieci undicesimi l'unico dubbio resta in una zona che vi dico adesso megnan tomori e romagnoli teo e florenzi tonali e bacaioco a centrocampo scelta obbligata poi sale mecher brain diaz e ibra con qui indicato junior messias una delle cose belle di questo 2022 la prima cosa bella è che rebic e leao si sono allenati in gruppo quindi sono a disposizione per la partita di giovedì a meno che da qui a giovedì voglio dire no ecco quindi abbiamo un'alternativa secondo me sky mette junior messias nella formazione in via precauzionale nel senso che è chiaro che rebic e leao non hanno non avranno la possibilità di giocare tutta la partita però secondo me lì uno dei due ci sarà uno dei due ci sarà per quel che riguarda invece la roma non ci sono grossi problemi perché perché di assenti diciamo ci sono quelli di lunga data come spinazzola o borca mayoral c'è il sharawi che mancherà però vedete che più o meno la formazione è quella e questa è quella che josé murigno in questo momento ha in testa dal mio punto di vista quindi rui patrissio mancini smoling e i bagnes in difesa a centrocampo il pivote cristante vere tu che sono due giocatori importanti tra poco ne parliamo pellegrini poi vigna e carstop sono i due esterni no tutta fascia nel nel 352 e poi abraham e zagnolo questa è la prima novità di murigno cioè il fatto di aver spostato zagnolo dal centrodestra zona attacco quindi esterno destro d'attacco con rientro sul piede sinistro ve lo spostato in una posizione invece di seconda punta di appoggio ad abraham ea bergamo ha funzionato bergamo è stata per l'atalanta la vittoria con quattro gol segnati della squadra bergamasca è stata probabilmente è stata la parità migliore dell'anno dei giallorossi che si sono trasformati in quella circostanza cioè hanno deciso di abbandonare completamente velleità di possesso di costruzione di un certo tipo andare a difendere e farlo anche piuttosto bene vi faccio vedere questa diapositiva della partita dove si può vedere vedete la linea difensiva della roma con i tre centrali in base a destra diciamo c'è vigna che rientra bene dall'altra parte c'è car stop poi ci sono anche i centrocampisti vedete c'è mkhitaryan c'è cristante appunto è insomma un movimento organico di difesa che in quel di bergamo ha prodotto un risultato importante cioè ha prodotto la vittoria ora dicevo la roma sta cercando la sua identità lo sta facendo attraverso una serie di sistemi di gioco partita con il 4 2 3 1 è variata poi sul 3 4 1 2 sul 3 5 2 sul 3 1 4 2 insomma con varie soluzioni che però definitivamente ci raccontano due cose la prima come dicevo lo spostamento di zagnolo quindi maggiormente coinvolto nella fase di ripartenza e sappiamo che zagnolo è un giocatore veloce e tecnico quindi molto pericoloso probabilmente anche la necessità di dare ad abraham un maggior sostegno quindi qualche giocatore come dire che potesse essere più vicino a lui e collaborare con lui per poi stabilire a seconda dell'avversario a seconda della partita come schierare il centrocampo perché dico questo perché assodato che pellegrini è uno dei migliori giocatori della roma di quest'anno e che può andare un po dove gli pare nella zona i tre quarti ci sono le posizioni di veretù e di cristante che sono un po la discriminante in questo momento che ci fanno intendere che tipo di partita vuole fare murigno perché dico questo perché qui vediamo nella partita di bergamo vediamo le posizioni di cristante di veretù che come vedete sono molto vicine sono molto vicine cristante chiaramente aveva anche un ruolo maggiormente di pressione no e quindi è andato un po a a dar fastidio alla alla fase di costruzione dell'atalanta veretù mette a referto come vedete in basso a destra due assist in questa partita in una posizione quindi molto più difensiva invece se andiamo a vedere la partita con la sandoria che è una partita che la roma ha preparato allo stesso modo ma sbagliando innanzitutto dal punto di vista di finalizzazione e poi come dire non trovando ancora quella dimensione e vi spiego tra poco perché come dicevo nella partita con la samp invece vedete la posizione di cristante più avanzata ma soprattutto la posizione di veretù più avanzata anche se vedete come veretù come dire abbia dovuto correre un po dappertutto faticando a trovare una posizione certa ecco questa è una delle soluzioni di murigno vediamo cosa c'è qui di questo ne parliamo tra poco molto bene allora una delle soluzioni di murigno perché dico questo perché quello che vuole fare il tecnico portoghese è cercare di trasferire ai suoi giocatori la capacità di essere quanto più utili possibili all'interno della partita in preparazione della partita e anche in base allo schema di gioco questo chiaramente non è facile perché richiede tempo richiede una grande capacità da parte dell'allenatore di trasferire le sue informazioni faccio un esempio ho visto un po di partite del manchester united di rangnick ricordate non nostro vecchio amico e lì si è visto subito al di là diciamo della sconfitta di ieri o dell'altro ieri ma si è visto subito la velocità di trasferimento di alcune informazioni nel 4222 che ha messo in campo con lo united poi magari faremo anche una ravagna tattica su questo perché secondo me è molto interessante ci sono degli spunti interessanti che potrebbero tornare utili anche per noi del milan ma in ogni caso è un processo che richiede un po di tempo è un processo che richiede grande intelligenza tattica da parte dei calciatori e grande fiducia nei confronti dell'allenatore perché è una cosa impegnativa è una cosa difficile da fare cioè non è diciamo come quello che può aver fatto Antonio Conte quando è arrivato al Tottenham ha dato quattro dritte che poi sembra facile diciamo ha dato delle indicazioni precise su cosa fare in base alla disposizione in campo e lì è andato qui si parla di adattarsi all'avversario alla partita al modulo quindi difficile la Roma quindi che tipo di partita potrà fare contro di noi la mia sensazione è che la Roma contro di noi farà una partita molto simile a quella vista Bergamo quindi una partita di attesa una partita di baricentro basso una partita di contenimento e poi di contropiede questo è il tipo di gara che mi aspetto da parte della Roma con naturalmente una proiezione sulle fasce perché la Roma adesso non ho modo di mostrarvi l'immagine ma la Roma comunque è una squadra che attacca principalmente sul lato destro sul lato di Casdorp e quella direttrice con Zagnolo lo fa anche sulla sinistra al 33% e il 38 invece sulla destra quindi farà un tipo di partita così questo è quello che mi aspetto da parte nostra i recuperi di alcuni giocatori saranno fondamentali chiaramente bisognerà gestire la situazione del centrocampo perché vi faccio rivedere questa immagine che ci dà la misura di come questa è la partita in casa con la Sampdoria ma io prenderei riferimento questa di Bergamo vedete il loro è un centrocampo diciamo a due con veritue cristante tendenzialmente poi anche Mkhitary ha una grande spazio di manovra ma ad esempio a Bergamo l'Armeno ha dato una grande mano in fase difensiva quindi bisogna stare attenti anche lì non sarà una partita semplice poi naturalmente tra domani e giovedì quando avremo maggiori elementi anche per capire che tipo di squadra metteremo in campo noi approfondiremo il dettaglio l'ultima cosa che voglio farvi vedere è questa questa è la classifica dei palloni riconquistati dei possessi conquistati nell'ultimo terzo di campo che ci dà un po' in un certo senso l'indicazione del tipo di gioco di una squadra cioè che tipo di pressione fa una squadra e quanto vuole andare presto a recuperare il pallone o quanto vuole andare a cercare di recuperarlo cioè vuol dire se lo fa dopo aver perso la palla il famoso recupero breve il gegenpressing e tutte queste cose qua oppure se lo fa nel momento in cui gli altri impostano l'Atalanta è prima come vedete noi siamo secondi poi ci sono il Torino e il Verona che hanno una filosofia simile perché diciamo il Verona è figlio anche del Torino è figlio di Juric poi l'Inter e poi la Sampdoria l'Empoli e l'Eventus guardate dov'è la Roma in questa classifica la Roma come vedete qui è al quindicesimo posto di questa classifica che vuol dire che è proprio verso il fondo delle squadre che pressano di più vuol dire che deve trovare ancora la sua identità deve trovare ancora il suo equilibrio deve capire che cosa fare se trasformarsi in una squadra di grande attesa e contropiede oppure cercare davvero di adattarsi a seconda della partita non è facile farlo nel momento in cui passi ad affrontare un avversario che temi e poi devi andare a fare la partita questo è passaggio che è mancato alla Roma ad esempio nella gara con la Sampdoria dove comunque adesso qui mi ero anche salvato le statistiche della partita con la Sampdoria vi dico questo la Roma con la Sampdoria ha tirato 15 volte in porta ha fatto un gol 6% di realizzazione mentre in quel di Bergamo ad esempio la Roma aveva tirato 8 volte in porta e aveva assegnato 4 gol ecco per dire no poi vedete come è molto ancora in lavorazione la squadra giallorossa questo però non ci deve spaventare anzi per noi deve essere un vantaggio a patto di impostare la partita giusta cosa dovremmo fare noi lo vedremo nei prossimi giorni quando avremo un po più l'indicazione di riformazione e ci darà appunto la misura di cosa vuole fare Pioli vi auguro un buon pomeriggio e alla prossima